Si sblocca lo scambio tra Comune e Ater per l'area Portaleoni dove ci sono le palazzine che lasceranno spazio a parcheggi di prossimità in centro. È stato sottoscritto il protocollo d'intesa e l'Ater avrà presso degli appartamenti da mettere a disposizione degli inquilini. L'accordo prevede il passaggio dell'area delle case popolari al Comune, quest'ultimo consegna invece all'Ater 55 unità immobiliari nuove e ristrutturate da mettere a disposizione sia in centro che in periferia per un valore di 11,5 milioni di euro con un maggiore credito di 158 mila euro che sarà usato nei confronti del Comune per l'acquisto di altre unità immobiliari. I tempi saranno brevi, la gara è già stata espletata. Avevamo già una gara espletata, tanto è vero che con la firma della Convenzione il RUP dell'intervento sta procedendo all'affidamento sotto riserva di legge alla ditta che sia giudicata la gara, quindi accelereremo in attesa della verifica dei requisiti, cosa che è consentita dalla norma e quindi partiranno le ruspe con l'abbattimento e finalmente il coronamento di un progetto su cui abbiamo lavorato a lungo. Quando ci siamo insediati avevamo scoperto che questo, come tanti altri procedimenti, erano confusi, caotici, con molti errori, soprattutto sulla quantificazione delle aree. Ci eravamo sincerati che la precedente gestione dell'Ater aveva dato in carico ad un professionista che aveva fatto un calcolo non rispondente alla realtà. È stata un'operazione complessa perché il controvalore dei beni messi in permuta è molto elevato, supera i 10 milioni di euro e finalmente l'Aquila avrà una prima risposta al problema dei parcheggi in attesa del secondo lotto che riguarderà la realizzazione del parcheggio interrato. Il protocollo arriva dopo l'approvazione da parte del CDA di Ater di un apposito schema di convenzione e si chiude una questione appesa da anni. Ora per le assegnazioni uscirà un avviso pubblico che darà la priorità agli ex residenti di Porta Leoni. È indiscutibile l'utilità che avranno tali parcheggi per il centro, ancora con tanti spazi a disposizione dei cantieri. 90 saranno quelli a raso nel primo step, poi 200 interrati in un secondo momento.